Quest'anno il tema che è stato proposto a livello europeo è patrimonio tutti inclusi e quindi noi abbiamo pensato di realizzare come gli altri anni, in collaborazione con l'associazione Etra Entra nell'arte, un walkscape per le vie cittadine basato sui documenti del nostro archivio di Stato e coinvolgendo altri istituti di cultura della città come la Biblioteca Oliveriana di Pesaro, come l'archivio storico diocesano e anche l'archivio privato di Gabriele Stroppanobili. L'obiettivo è appunto quello di coinvolgere la popolazione, chi vorrà partecipare a questo walkscape che si concluderà poi in archivio di Stato, in un percorso culturale alla scoperta dei luoghi di assistenza a Pesaro tra XVII e XX secolo. L'abbiamo ricollegato al tema dell'inclusione perché appunto abbiamo pensato che a livello locale un'importante iniziativa per includere fasce sociali altrimenti destinate insomma a soffrire in passato era stato svolto appunto da questi istituti assistenziali con tutti i loro limiti che poi verranno illustrati. La ricerca è stata fatta da me e da Arianna Zaffini, la nostra collaboratrice archivista e appunto dagli altri istituti che hanno collaborato con noi. Il walkscape si conclude con la visita alla mostra dei documenti in archivio di Stato. Il walkscape inizia alle 5 del pomeriggio di sabato e si conclude con l'arrivo dopo la passeggiata per le vie del centro alla ricerca dei luoghi storici si conclude con l'arrivo in archivio di Stato. Contemporaneamente sabato 25 settembre anche la sezione di archivio di Stato di Urbino è aperta al pubblico con la possibilità di visitare i depositi e alcuni documenti che narrano del liceo Raffaello di Urbino e della sua storia in particolare nel delicato passaggio tra istituto religioso e liceo pubblico statale quindi intorno agli anni dell'Unità d'Italia.